20 milioni di spettatori vale a dire un mercato che bisogna soddisfare con una fitta produzione così i ciac si susseguono. Questo si riferisce al primo giro di manovella di Malizia con Tina Omon, Lilla Brignone e Pino Caluso. Il regista è Salvatore Samperi che si rivelò con grazie zia e il cuore di mamma. Che cosa racconta Malizia? Ascoltiamo l'autore Samperi. Partendo da quello che è un po' il tema dominante dei miei film, a cominciare da grazie zia, in Malizia ho tentato una volta in più di raccontare il rapporto tra un ragazzo di 15 anni e una donna più vecchia di lui. Più che altro mi attenzione di raccontare il mondo psicologico erotico di un ragazzo in piena pubertà. Il mondo è il momento particolare che passa tra la scoperta della donna e la prima volta in cui si ha un rapporto vero con una donna. Un'esperienza che secondo me tutti hanno fatto e che è legata a uno dei più importanti ricordi. Non ti stringe? Non ti stringe? Che lo rompi? A te che ti importa se mi stringe o non mi stringe? Così penso che un almeno una volta nella vita ogni donna ha subito il fascino di un ragazzo. Quello che può essere questa corte assidua, assillante, fantasiosa, fantastica, maliziosa, di un giovanissimo innamorato. Grazie a tutti.